Bene, eccoci arrivati alla terza parte del corso, terza lezione, e parliamo di variabili. Ecco, qui cominciamo a entrare nelle cose un po' più interessanti, cominciamo a dare corpo al nostro script, cominciamo a creare quei mattoncini di cui ho parlato nell'introduzione del corso, che ci permetteranno poi di creare il risultato finale, il nostro script finale, che avete visto solo accennato nell'introduzione del corso, e che poi vedremo in dettaglio la fine del corso, commenteremo in dettaglio naturalmente. Ecco, le variabili, qui dico che le variabili danno vita al codice proprio perché è variabili, quindi interrogabili e mutabili nel corso dell'esecuzione del nostro script, questo è importante da capire perché non si chiamerebbero variabili se non potessero variare ovviamente, ecco. Quindi una variabile è un, come dire, una celletta di memoria del nostro computer che ci riserviamo per depositarvi un valore. Ecco, e negli script bash le variabili non hanno una definizione specifica, cioè non bisogna dire specificatamente se una variabile è numerica, ovvero che contiene solo cifre, numeri, o alfanumerica, ovvero che può contenere lettere, anche numeri, ma soprattutto lettere. Quindi una variabile alfanumerica, come dico qui, è testuale, contiene quello che nel gergo dei programmatori si chiama stringa, perché è una stringa di caratteri e non è un valore numerico che si può magari moltiplicare, sommare. Una variabile alfanumerica può contenere contenuto misto, ecco. Vedete, nell'esempio che, nei due esempi che ho messo qui, una variabile numerica ho messo pipo uguale a 40, che poi ho riportato qui nel nostro codice di prova della lezione numero 3, quindi se aprite lo script che si chiama parte 03, ritrovate questo stesso codice che ho davanti agli occhi, ora io, che vedete adesso nel video. Quindi vedete, ho creato una variabile numerica, un paio di esempi, poi vedremo perché ho creato proprio questi due esempi. Comunque, numerica che contiene due numeri, 40 e 125, oppure una variabile alfanumerica, quindi che contiene anche dei caratteri, tipo questa, paperino uguale qui, qua e tre nipotini. Ecco. Quindi il valore di una variabile, proprio per definizione, in quanto variabile, non è fisso, cioè non è che adesso pipo uguale a 40 e deve rimanere 40, ma nel corso dello script può anche cambiare. Come vedete qui alla fine di questo esempio, cambiamo il valore della variabile pipo, quindi da 125, pipo la facciamo diventare 37, e vedrete fra un attimo che la variabile in effetti ha cambiato valore. Quindi ovviamente già dal nome variabile perché può variare. Ecco. Allora, prima nota, teniamo presente che in Linux, questo ho già avuto modo di dirlo in altre occasioni, in altri video, comunque lo ripeto qua, perché è importante da sapere, che tutto in Linux è case sensitive, ovvero c'è distinzione fra maiuscole e minuscole, quindi una variabile che voi decidete di chiamare pipo con la p iniziale maiuscola, questa qua, è diversa, quindi è un'altra variabile rispetto a quella che si chiama pipo con la p minuscola, ed ecco perché ho proprio fatto un esempio didatticamente importante, ho creato una variabile pipo uguale a 40 con la p maiuscola e una uguale a 125 con la p minuscola, che sono due variabili diverse, potete chiamarla Pluto, per farci forse più intuitivo capire che Pluto è diverso da pippo, ma in realtà questo pippo è esattamente la stessa cosa, diversa come se si chiamasse Pluto. Seconda nota, per visualizzare il contenuto di una variabile, quindi un conto, è caricare la variabile, qui abbiamo visto che a codice si fa semplicemente così, si dà il nome della variabile uguale al suo valore. Per quanto riguarda le string, ovvero le variabili alfanumeriche, si fa uguale, virgolette, il contenuto, chiuse le virgolette, e questo è fra una virgoletta iniziale e la virgoletta finale, c'è il contenuto della variabile paperino. Per visualizzare il valore delle variabili, cioè per poter ottenere quanto noi abbiamo depositato nella variabile, si usa il comando echo, e-c-h-o, dollaro variabile. Questo non necessita di nessuna spiegazione, nel senso che chi ha creato il motore bash di shell, di questo script, ha deciso che la sintassi deve essere questa. Quindi qui non c'è una spiegazione tecnica per cui il dollaro, non il dollaro, che ne so, fosse stato magari un europeo creare questo linguaggio, avrebbe messo l'euro, ecco per dire. Quindi non c'è una spiegazione, bisogna prenderlo così, bisogna prendere atto che questa è la sintassi. Quindi il comando di bash è echo, per farci tornare, per leggere quella celletta di memoria nel nostro computer, e poterci mostrare che cosa contiene, dollaro è il nome della nostra variabile. Vedete qui nell'esempio, qui a sinistra, che ho scritto appunto, dopo aver creato le tre variabili, quindi pippo, maiuscolo, pippo, minuscolo e paperino, qui semplicemente non faccio nient'altro che, come dire, stampare a video, mostrare, visualizzare il loro contenuto che abbiamo appena caricato sopra. Poi, giusto per mostrarvi che il cambiamento di valore è facilissimo, quindi si reimposta un'altra volta la variabile con un altro valore, e poi lo rivisualizzo per mostrarvi che in effetti è cambiata. Ecco. Vediamo, prima di eseguire questo codice di descrizione e discussione sulle variabili, magari lo vediamo rapidamente, o rivediamo rapidamente da cima a fondo, perché siamo proprio agli inizi delle nostre lezioni, e dopo la lezione precedente, che parlava dei commenti, che in realtà non sono proprio codice, ma su un codice testo morto per il motore bash, qui per la prima volta affrontiamo veramente una parte di codice vivo da usare. Ecco, allora guardiamolo rapidamente, quindi come sempre, ormai lo sapete dalle lezioni precedenti, la prima riga deve essere la dichiarazione che sto usando, utilizzando il motore bash per questa shell. Poi il comando clear, ecco questo altro comando, quindi questa prima lezione con codice vero e proprio, a parte le variabili, che è il tema di questa lezione, abbiamo già imparato due comandi. Clear che serve a pulire il terminale, quindi a far partire lo script con il terminale pulito. Ecco, se io mi posiziono qui sul nostro terminale, vedete che c'è ancora il contenuto della lezione scorsa, non è pulito il terminale, c'è già del contenuto visualizzato. Se io uso il comando clear, scrivo proprio clear, vedete l'ho scritto, faccio enter, si pulisce, cioè si riposiziona pulito solo con la prima riga di input del terminale. Tra l'altro vedete che ho usato il comando clear nel terminale direttamente, così come lo inserisco nel nostro script, nel codice che poi il motore bash interpreterà. Questo è importante perché, come ho detto nell'introduzione del corso, gli script bash vi mettono a disposizione tutta la potenza del terminale Linux. In realtà i comandi che noi mettiamo qui in sequenza nel nostro script possono essere fatti anche singolarmente, usati, scusate, singolarmente nel terminale. Quindi io potrei benissimo farmi tutti questi comandi ad uno ad uno nel terminale, qua singolarmente. Perché è la stessa cosa, tanto che nello script noi li raggruppiamo e li facciamo eseguire automaticamente al nostro PC. E' lì la comodità di automatizzare le cose. Raggruppare i nostri comandi invece di doverli scrivere e farli a uno a uno. Allora, proprio perché siamo all'inizio, ne facciamo magari giusto un paio di comandi singolarmente a terminale per farvi vedere quello che ho appena detto. Quindi il clear l'abbiamo già usato, e adesso assegniamo la variabile pipo uguale a 40. Praticamente facciamo questa, questa qua, pipo uguale a 40. Quindi diciamo che la nostra variabile pipo, ne definiamo una variabile pipo uguale a 40. Ecco, in questo momento, nella memoria del nostro computer, fin quando non spegniamo questo terminale, fin quando non chiudiamo questo terminale, è lì, è dentro la celletta di memoria, dentro il valore 40. Come facciamo a vederlo? Usiamo questo comando echo, che abbiamo appena imparato, quindi echo per vedere il contenuto di una variabile, per richiamare il contenuto di una variabile. Scriviamo uguale come lì, echo. Non è indispensabile mettere la stringa davanti, diciamo la dicitura pipo uguale, perché adesso stiamo lavorando su pipo, lo sappiamo. Ecco, in uno script diventa già più importante essere espliciti. Se facciamo semplicemente echo, dollaro, pipo, poi chi si ricorda, fra le tante variabili di uno script, magari bello grosso, quale sia quella variabile. Quindi è più carino, è più esplicito, è più facile per l'utilizzatore dello script essere sempre molto chiari ed espliciti. Quindi qui, nello script, ho messo echo, poi pipo uguale, e il valore dollaro, pipo della variabile. Qui lasciamo perdere il pipo uguale, perché sappiamo che vogliamo ottenere il valore di pipo, quindi scriviamo solo dollaro pipo, facciamo sempre l'enter, e vedete che viene stampato, tra virgolette, a terminale visualizzato, il valore 40, e voilà. Avete visto, ho eseguito esattamente i comandi che qui sono raggruppati nel nostro script. Tutto lì. Quindi, come codice iniziale, non è complicato, però stiamo rompendo il ghiaccio, e quindi io posso immaginare che uno che non ha mai programmato né niente si trova davanti a tutta una cosa nuova, quindi insisto un attimino su queste cose. La sintassi colorata ci aiuta, vedete che in rosso, non so, rosso mattone, marroncino, sono evidenziati i comandi delle bash, quindi il clear e l'eco, vedete che sono evidenziati con lo stesso colore, perché sono comandi. I commenti sono in blu, questo l'abbiamo già visto, in bluetto più sul violetto, le variabili, vedete, pippo, pippo, paperino, tutto quel colore un po' violetto, e che viene anche riportato col dollaro, pippo, dollaro, pippo, dollaro, paperino, vedete, quel colore richiama le variabili e non ha importanza, non ha colore diverso fra una variabile che contenga dei caratteri e una variabile che contenga solo dei numeri, nessuna differenza, è sempre quel violettino e le riconoscete anche qua. Ecco, adesso, finalmente, eseguiamo per la prima volta il nostro codice e, vediamo se mi ritrovo il comando, ecco, come lo eseguiamo? Perché l'altra volta, nella puntata, nella lezione precedente, vi ho detto di non preoccuparvi di guardare cosa stavo facendo perché ve l'avrei spiegato, ve lo spiego, ecco, quindi, come si esegue questo script bash con il motore bash? Facile, noi, io mi sono posizionato nella mia cartella che con tutto il corso che è esattamente come se voi aveste estratto tutto l'archivio compresso che vi ho messo a disposizione in una vostra cartella che non necessariamente deve essere uguale alla mia con il mio percorso, ovviamente, vedete qua dentro ci sono tutte le parti di codice e io nel terminale mi sono posizionato lì, quindi nel mio caso, nella mia home, sotto documenti, tecnica, corso, bash, mi sono posizionato lì, che almeno sono lì e lì ci sono tutti i miei script da eseguire, poi, si usa il comando bash, spazio, e il nome dello script, quindi vedete che si chiama corso, script, bash, parte 03.sh e scrivo il comando bash, spazio, corso, script, parte 03.sh. Facendo enter, partirà questo script, quindi proviamo, faccio enter, e voilà. Allora, vedete che i comandi echo appunto visualizzano a terminale qualcosa, che sia un testo che noi mettiamo fra virgolette doppie iniziale e finale, ma anche i nostri valori delle variabili col dollaro davanti, vedete che ce li ha riportati, se seguiamo il risultato con il codice vediamo che corrisponde esattamente, quindi ha fatto un bel clear e in effetti il primo echo, il primo nostro visualizzazione di variabili è la prima riga perché ha pulito lo schermo del terminale, quindi pipo uguale a 40 e questo echo qua, vedete, ha fatto clear, ha assegnato pipo uguale a 40, ha assegnato pipo minuscolo uguale a 125, ha assegnato paperino qui o qua e poi qui li ha visualizzati tutte e tre e vedete che pipo maiuscolo è 40, pipo minuscolo è 125 e paperino riporta qui o qua i tre nipotini. Poi ho cambiato valore in fondo qua, diciamo che ho sostituito il valore nella celletta di memoria della variabile pipo minuscolo con un nuovo valore, quindi da 125 è diventato 37 ed ecco che riporta che adesso la nuova pipo minuscola è 37. Ecco, avete visto che non è niente di stratosferico, niente di difficilissimo, abbiamo già creato un nostro primo piccolissimo script bash, quindi abbiamo già programmato, seppur semplice, seppur agli inizi, però ovviamente non si può iniziare con programmi della NASA, ecco qua, un piccolo piccolo programmino che però è perfettamente funzionante. Ecco, adesso, già che ho detto la frase perfettamente funzionante, io vi vorrei mostrare cosa succede quando c'è qualcosa che non funziona e perché nella prima lezione vi ho fatto attivare alcune opzioni dell'editor gedi, dell'editor di testo che può far comodo. Ecco, inseriamo volutamente un errore un errore in una riga, senza accorgerci inseriamo direttamente un errore, non so, il paperino qua, vediamo un po', facciamo che, ecco, non mi accorgo che ho fretta a scrivere, scrivo un comando ecco con due c invece che ecco giusto, vedete che non è più marroncino perché non è un comando riconosciuto dalla bash della shell, non è un comando riconosciuto però diciamo che sono distratto, vado di fretta, non me ne accorgo che si è scolorato e quindi c'è qualcosa che non va, salvo, eseguo il mio script e vediamo cosa succede, ecco, cosa è successo, vediamo due cose interessanti, una, lo script non è andato in errore subito ma solo al momento che ha incontrato l'errore, cosa vuol dire? Questa è un'altra cosa interessante e importante da tenere presente, ogni script bash è interpretato dall'inizio verso la fine, sempre, proprio perché è un linguaggio interpretato riga per riga, quindi lui parte dal comando clear e in avanti, va, 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 e poi qui ha incontrato l'errore, ecco, vedete che in effetti ha fatto a tempo a mettermi a video che la variabile pippo è uguale a 40, la pippo è uguale a 125 e poi ho un errore, ecco, io nell'editor di testo vi ho fatto attivare la visualizzazione della riga di testo, vedete qui 1, 2, 3, bla, 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 perché è importante adesso lo capite, vedete che qui l'errore viene indicato esattamente con la riga, cosa ci dice il terminale che lo script corso script bash parte 03.sh alla riga 15 c'è scritto ecco che è un comando non trovato, non riconosciuto, vedete, molto chiaro l'errore, in questo caso è banale, riga 15, quindi noi andiamo dritti dritti alla riga 15 e vedete che troviamo l'errore, accidenti, ho scritto ecco con 2c e lo correggiamo, ecco perché è importante avere visualizzato il numero di riga e vedete come il terminale è molto preciso a indirizzarvi dove avete fatto l'errore, adesso l'ho corretto, salvato, se rieseguo, tra l'altro ho dato per scontato come riprendere i comandi già eseguiti per chi non ha mai usato il terminale me ne scuso che ogni tanto mi sfuggono queste cose che sembrano scontate, le frecce sulla vostra tastiera le frecce che va in su e la freccia che va in giù vi servono per scorrere i comandi che avete già eseguito la storia dei comandi ecco qui non è come nella finestra DOS di Windows che quando la chiudete vi perde la cronologia dei comandi ma qui anche quando spegnete il pc lo riavviate il giorno dopo vi ritrovate sempre tutta la storia dei comandi che avete eseguito nell'ultimo tot di tempo sempre anche i comandi vecchi li potete ritrovare ecco in questo momento in cui vi parlo io sto usando la freccia su quindi vedete che ci ritroviamo tutti i comandi che avevo fatto anche a 1 a 1 il clear e avevo segnato la variabile pippo la freccia su e la freccia giusto scorrendo i comandi quindi per rieseguire il nostro scritto e vedere se non ha più errori e verificare che non abbia più quell'errore alla riga 15 faccio freccetta su mi ritrovo il comando che ho appena fatto prima e faccio semplicemente enter e vedete che adesso rifunziona perché è corretto ecco molto importante quindi che abbiamo visto in questa lezione sulle variabili abbiamo imparato sì cosa vuol dire assegnare un valore a una variabile come si fa a recuperare questo valore ma soprattutto abbiamo capito anche come funziona lo script bash abbiamo imparato un paio di comandi clear ed eco e soprattutto che lo script bash viene interpretato dall'inizio alla fine abbiamo visto come si fa a posizionarsi su un errore se c'è un errore nel nostro script a intercettare l'errore e a capire dov'è e abbiamo capito come si usano queste variabili come si valorizzano queste variabili c'è ancora un'ultima cosa da dire in ambito variabile ci sono delle variabili predefinite nel sistema ovvero ogni sistema linux ha delle variabili sue che sono valorizzate che vengono create e appunto create anche con il loro contenuto dal sistema linux quando parte quando voi usate il pc queste variabili vengono usate dal sistema stesso per i suoi lavori ecco per funzionare queste variabili non sono diverse dalle nostre se vogliamo hanno dei nomi che di solito sono tutti maiuscolo come vedete qui io ho messo qui alcuni esempi di queste variabili predefinite che ci possono dare anche dei valori che sono comodi per il nostro script e quindi ho messo appunto alcuni esempi con il comando echo per interrogare il loro contenuto ecco vediamone solo una fra tutte poi voi naturalmente avete tutto a disposizione potete provarne anche di più però se io faccio echo user come questo per esempio echo dollaro user enter vedete che mi è fuori Nicola perché il mio utente come è riportato anche qui nel prompt del terminale il mio utente è Nicola addirittura c'è anche questo random che ci torna un numero casuale si sa mai che possa servire a qualcuno in un suo script di avere dei numeri che variano ogni volta che viene richiamato vedete che è random lo richiamo una volta poi tasto freccia in su enter vedete che varia ogni volta tasto freccia su enter vedete che varia questo qui è una variabile predefinita di sistema variabile numerica che torna un numero un valore casuale magari qualcuno serve eccetera 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 ecco naturalmente queste variabili sono comode sì ma mi raccomando a meno che non sappiate cosa state facendo non modificatele voi cioè non riassegnatele come abbiamo visto qua non fate random uguale a qualcosa oppure che ne so user uguale a qualcosa d'altro perché queste sono variabili delicate naturalmente servono al sistema per funzionare correttamente potete leggerle ma lasciate perdere di modificarle a meno appunto che non sappiate esattamente cosa state facendo quindi mi raccomando solo il comando eco ma non caricatele con dei valori vostri perché potete creare pasticci ecco e poi qui in ultimo vi dico come elencare queste variabili che ce ne sono parecchie ecco se usate il comando eco dollaro e poi fate un paio di volte premete un paio di volte il tasto tab che vuol dire l'autocompletamento dei comandi vedete che vi elenca ecco qua vi elenca tutte le variabili che ci sono in questo momento nel vostro terminale vive o nel sistema perché tutte iniziano col dollaro compresa guardate un po' compresa la nostra pippo che abbiamo creato prima per farvi l'esempio ecco questa qui è una variabile nostra naturalmente quella con dentro il 40 quella che vi ho fatto che ho creato a terminale per mostrarvi come si faceva come si fa e risulta fra l'elenco di quelle conosciute naturalmente questa poi morirà appena spegniamo questo terminale appena spento questa muore mentre quelle di sistema queste restano ovviamente tutte queste qui sono predefinite e gestite dal sistema ecco quindi fra queste potete curiosare ce ne sono magari di quelle utili al vostro script ecco per quanto riguarda le variabili ritengo di aver detto tutto e approfittando delle variabili ho anche detto di più come funziona lo script l'interpretazione dello script come si assegnano i comandi e quindi direi che possiamo chiudere qui e vi aspetto alla prossima lezione ciao ciao ciao